E' importante, importantissima, una denuncia, che ora leggerò, nel frattempo scorreranno le immagini, presentata da Luciano Manna di PeaceLink, indirizzata alla Procura della Repubblica di Talento e ai carabinieri del Noe di Lecce. In merito all'evento incidentale avvenuto in colata continua numero 1, il 17 aprile alle ore 22 circa, dobbiamo registrare l'ennesimo atteggiamento superficiale dell'azienda ILVA, che di fronte ad un evidente rischio per la salute degli operai minimizza il tutto con una nota stampa, dove si dichiara quanto segue solo dell'acciaio liquido uscito dalla paniera e finito nelle tinozze d'emergenza. Processo produttivo previsto e controllato. In virtù delle fotografie in allegato, prosegue Manna, e delle informazioni ottenute dagli operai presenti sul posto al momento dell'incidente, possiamo sostenere che ILVA ha dichiarato il falso. Non è vero che non si tratta di un incendio, ma solo dell'acciaio liquido uscito dalla paniera e finito nelle tinozze d'emergenza, perché l'acciaio liquido, circa 50 tonnellate, prosegue Manna, ha riempito le tinozze, che a loro volta non hanno contenuto tutto l'acciaio della colata. Pertanto buona parte di questo acciaio liquido è finito per terra, ha innescato un incendio e ha inoltre occupato gli stessi binari dove scorre il carro paniera B, che è rimasto saldato ai binari. In queste operazioni, dove gli operai hanno azionato l'emergenza dell'impianto, si sono sprigionate fiamme che hanno interessato la linea 2 di colaggio, quindi di seguito l'intervento dei pompieri. Anche in questo caso si è messo a grave rischio la salute degli operai presenti nel reparto e gli stessi pompieri che sono intervenuti nell'emergenza. Sia perché l'acciaio liquido riversato per terra poteva raggiungere chi operava, perché l'acciaio non era più contenuto nelle tinozze ormai piene, sia per i fumi sprigionati nello stesso reparto e che quindi venivano inalati.